no benvenuti ragazzi e bentornati sul canale di giochi netzgen siamo qui oggi con fifa 16 siamo in divisione 9 abbiamo 6 punti e dobbiamo farne 10 per andare in divisione 8 quindi vediamo se questo episodio riusciamo ad andare subito in divisione 8 piani cimila del piani se ne va da dentro per i quali che prova a un giro ora qua stiamo pressando molto ragazzi pallone dentro attenzione freddy guarina tino miracolo del potire ottimo tiri o parata ragazzi non si segna non si insegna ragazzi guardate qua guardate qua un giro classico ragazzi classico un tiro un gol va bene attenzione qua attenzione qua il tiro è ancora parata attenzione qua luis adriano è solo il tiro il pareggio immediato il pareggio immediato di luis adriano guardate qui il grande luis adriano salta diretto l'avversale poi con il gol dell'uno pari troviamo pianiccio e traversa il digiro perisic ancora dentro luis adriano gol 2 a 1 adriano facciamo facciamolo sfutare luis adriano 2 a 1 abbiamo ribattato finalmente ecco qui gran passaggio di perisic luis adriano non sbaglia è solo pianic prova il pallonetto adriano dentro ancora luis adriano luis adriano ancora e c'è il gol 3 a 1 vediamo le opportunità ragazzi eccola qua facciamo una sbio di nata 3 a 1 ormai è a nostro favore ci andiamo con i guain guain ancora guain la piazza e guain 4 a 1 il pipita il pipita non sbaglia 4 a 1 escezioni qua luis adriano miracolo dentro luis adriano se ne va luis adriano poi miracolo ancora del portiere è ancora qua il tiro è fuori di pochissimo dopo una serie di pinte riguain e c'è il gol 5 a 1 ma eccolo qua il pipita il pipita 5 a 1 ci stiamo parlando con Salah Salah e finisce la partita ragazzi prima partita prima vittoria siamo a 9 punti ci basta un solo punto per andare in divisione 8 quindi vediamo la seconda partita se riusciamo a fare almeno un pareggio successo e che ci consentirebbe appunto di avanzare in divisione a tra poco ok ragazzi eccoci giunti alla seconda partita del giorno in questa posizione di avere la promozione della divisione 10 mi basta un pareggio a 13 invece con il titolo e che ragazzi è cambiato totalmente formazione sto giocando con tutti i giocatori 11 giocatori praticamente tra quanti anni e sostituti mi serve su istruzioni quindi per far riposare un po' la squadra che ha usato finora quel qui sbaglia Bacca 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 il tiro palo di Bacca poi Barotelli miracolo ma era fuori gioco palo di Bacca c'è qua lui che avanza tiro ed impallato e c'è ancora il tiro ma Diego Lopez non si fa sorprendere dentro Bacca per Felipe Anderson Felipe Anderson Felipe Anderson ancora palone dentro per Palo Tengol il gol della merda il gol della merda eccolo qua Super Mario il gol della merda non fa nulla ragazzi ragazzi eccoci al secondo tempo di una partita abbastanza varia di emozioni no 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 grande palazzo di Lopez ragazzi infermabile Sterling il solito ball di inizio primo tempo non l'hanno ancora risolto ma l'ha messo fuori Diego Lopez che? no ma che rigore no va bene dai ma che cazzo no ragazzi ha dato calcio di rigore ma para para Diego Lopez ma ha dato un calcio di rigore inesistente Ballotelli lotta di fisico guardate Mario Super Mario Ballotelli eccolo qua ancora ha lottato Mario Ballotelli 2 a 0 2 a 0 gol mancato gol subito Mario Ballotelli 2 a 0 per noi è ancora dentro per Super Mario Ballotelli Ballotelli 3 a 0 Carlos Bacca fuori gioco ragazzi incredibile c'è la palla dentro no tiro e gol 2 a 1 nulla da fare dentro Bacca incredibile cosa ha divorato Bacca qui Ballotelli dentro per Bacca ha sbagliato il pallonezzo ragazzi incredibile sono qua il tiro pareggio è incredibile è incredibile è incredibile è incredibile come lo lasciano andare è incredibile ragazzi veramente è assurdo sono qua Bacca Carlo sbacca Carlo sbacca Carlo sbacca il tiro colpo di testa palo ragazzi guardate che lag tiro miracolo come cross dentro pallone messo lì rimane di la palla ragazzi guardate che guardate ragazzi guardate che lag con quello che sto giocando guardate come è iniziato a laggare cioè si può giocare così non lo so è finita ragazzi accompagnato esattamente dal lag comunque ragazzi in questo caso abbiamo pareggiato non so come abbia fatto a rimettere su questa partita il nostro avversario la squadra non era amalgamata ok ragazzi siamo in divisione 8 però siamo promossi ma ora dobbiamo fare altri tre punti per il titolo quindi nel prossimo episodio ci saranno due partite per vincere il titolo della divisione 8 ok ragazzi allora mi raccomando commentate condividete mettete mi piace se non vi siete iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi ditelo anche ai vostri amici qui da AngeloN83 è tutto ci vediamo al prossimo video bella ciao Grazie a tutti